Perchè è d'intralcio alla sua amica politica, più amica, non politica, no, è economica. Cioè lui è un imprenditore. Ha bisogno dei soldi della moglie. No, no, sei sposata con lui per i soldi, però adesso è già ricco, no? Però lei è indisposta, cioè a lei non piace la situazione perché non le piace. Un altro pezzo di cioccolato? La ricchezza. Non piace la ricchezza.